Oddio, ti sei già unito? Eh, c'ho direttamente una festa di Simeon, è incredibile. Da uno a due giocatori, recupero a Rockford Otello. Quelli migliorano la vita. C'è da rubare una macchina, c'è da rubare una macchina. C'è da rubare una macchina, potrebbe essere difficile. Aspetta un attimo, invitami che riesco fuori con la macchina, se no me la da. Ah, ok. E' stata arrivata in là. E se vuoi registrare, registra. Sto già registrando. LOL. Stiamo streaming. Stiamo già in streaming? Buonasera, gente. Buona. L'effetto delle handi fa male, eh? Sì, proprio qua. Proprio quello. Ti posso invitare? Vai. Quindi questa è una missione... Di Simeon. Simeon. Ma è la prima che ci da, però, come missione. A me è già la seconda. Mamma, mamma, da. Comunque, vabbè, dopo nel caso se ne fa altre. Ma tanto l'ho settato difficile, eh. Comunque, se non ho capito male, c'è da arrivare lì, ammazzare la sicurezza, almeno dalla descrizione, breve descrizione che c'era scritta. Ammazzare la sicurezza e pigliare la macchina. Quindi si va sempre con due macchine, perché c'è più blindatura, più chiaro. Cabrio. Mi raccomando, usate queste macchine. Che tutte quelle altre fanno schifo. Vabbè, mamma. Eh, sì, però, eh. Eh! Però è mano tua, pacca, caracchia. Eh, beh, sì, in effetti. Ha un ottimo controllo. Sì, molto, devo dire. È come io ieri, no? Quando ho fatto il video per... Come fare i soldi su... Il canale, no? Eh, ho fatto tutta la strada normale, invece di fare le sforciatoie, tutto il resto. L'ho anche detto. Tanto ciò, ho soltanto il culo di prenderla solo soltanto io le cose. Ma qual è lei? La limo? Questa. Questa, questa. Questa qui? Eh. Che cosa vuoi? Ma è mia ora, cioè, non lo so io, ma la gente proprio. Se la voglio fregare, vai, ammazzare. Dio, mano. Meno male, non ha detto nulla sul fatto di portargli alla sana. Sì, infatti, meno male. Sembra di sbirro lì. Oddio. Ecco, questa macchina non ha un controllo pari a zero. Magari non lo so guidare anch'io, naturalmente. Però... Quello è probabile. Sì, però, santo Dio, un curva, cioè, quando curva slitta, sembra essere sul ghiaccio. Ma no, ma fai piccato, perché non so se te ne sei reso un punto, ma la gomma posteriore sinistra è già un bello imbarcato. Porca, porca, porca. Salve, Fula. Come evitare gli sbirri, buh... Andiamo di qua. Vai, vai, vai in mezzo alla spiaggia. Vieni in mezzo alla spiaggia. No, questa è che ci fa qua? Una vacca? Sì, è una roia, ma stiamo... Non ci sale? Vabbè, chi se ne frega, scusa. Una frigiatina e poi... Sali? Oh, è bello o è macchina? Dai. Zoccola di merda. Vaffanculo, vai. Vedece, grazie. C'è, hai speso 50.000 per sta puttanata. 75.000. Te sei matto. Questi chi che fanno? Zombano. No, ancora no. Vai, abbiamo seminato la fula. Io no. Come no? Eh no. Vai allora fino laggiù in fondo finché non trovi il porticciolo. Seminata, seminata. Ah. Seminare la fula è abbastanza semplice. Come rompere una macchina... Quale macchina? È abbastanza semplice. Non ho una macchina. Non ho una macchina. Ho un trattore qui, madonna. Quella è l'Audi R8 che sta... Eccoci, ma dove cavolo sono andato? Oh, Gesù. E poi, Saffolarri. Eccoci. No, no, nell'acqua, no. Nell'acqua, no. Nell'acqua, no. Sei finito nell'acqua. Nell'acqua, no. Nell'acqua, no. Nell'acqua, no. Nell'acqua, no. Nell'acqua, no. Speriamo si possa rifare, puttanata. Io, buono. Kamayala, mignota. Non c'è un riaprio rapido. Dimmi di sì. Ravvio, ravvio. Sì, 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 sì. Mmm. Falla guidare a me, vai. No, no. Ormai è una soddisfazione personale. La voglio guidare io. Sì, così l'hai rinfilata nell'acqua. No. L'hai rinfilata nel fiume. LOL. Macchina, macchina. Beh, i respawn. Bra, allora, se no, fai, fa una cosa. Visto che comunque non ci sono guardie, escire un po' nel cazzo. Vieni con la mia. Vabbè, ormai l'ho presa. Sì, comunque siamo qui dietro. Eh sì, l'ho visto ora. Fla. Incredibile, è la prima volta che ti riesci senza la pattezzala da nessuna parte. Visto. Calve, mi scusi, posso avere la macchina? Sì, grazie. Sì, grazie. Se prendi la cosa, vieni la cosa. È mia. Vai, vai, vai. Cartello preso. Sì, ma che cavolo, era verde. Per me. Scappa, scappa. C'è un dritto, si guida bene. Il problema è quando va a fare le curve ad alta velocità. Sì, te pariè. Strano. Posso. Sbidi? Eccoci. Che t'ha fatto? Cozza. Cioè, comunque freghi una macchina, ti inseguono 10.000 pattuglie, già due stellette di oso. Poi per cosa? Poi per una macchinaccia, cioè. Eh, veramente, dalla descrizione della missione dice che cambia la vita, però? Cambia la vita a Simeon, lì, come cavolo si chiama, perché a me è proprio questa. Quindi te non hai mai fatto missione e la devi riportare qui al garage di Simeon? No. La storia del gioco inizia proprio da qui. No, a parte il prologo del cazzo, da quando inizi con Franklin. Le uniche prime missioni che tu hai sono sempre direttamente e rilegate con Simeon. A me un me le dava. Ah no? Non dava tutt'altro. Perché ti ha dato, scusa? Mi rompeva le palle Lester. No, aspetta, Lester è qui in online, io dico nella storia del gioco, in quella... Il gioco solo multiplayer, fly nel gioco. Non so, non so. Non me la cazzo. Io comunque sono qui, eh. Sì, sto arrivando, Simeon ora. Oia, boia, 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 oi. Ti sei accostato praticamente a una curva da... No, no, è un'illusione. Ottima. Sì. Fai, Simeon, figliatela. La guida prià. È il nove, eh, di pacca proprio. Sì, pacca proprio. Cioè, non perfetto, ma... Vabbè, un po' di ritocchi, dai. Non ci vorrà. 200 dollari si fa tutto. Vabbè, cazzo, maia. 7,5. Guarda se tenete altri di questo, perché rubare le macchine è più divertente. Eh, non lo so. E rubare sempre la cocaina, tu, quale? Perché poi c'è quell'altro che mi stima parecchio. Chi? Il tizio... Quello della coca, sì. Eh, io vorrei provare a vedere un attimino anche di fare qualche... No, eh, ci ridà direttamente queste. Allora, si esce un attimo. Si ritorna di là. Partite separate, ovvio. Ovviamente. Non si sa perché questa cosa. Non è che si deve cliccare tutte e due free mode? Eh, ma si va tutte e due in free mode, poi. Non è che si va in una partita separata come si stiamo a fare adesso. No, piccata perché ci siamo abituati ormai a giocare così fra. Quindi, anche se mi decisi, dimenti, eh, di passare il banco, ma tu di cosare o di fare con il cellulare. Esatto, separate, vabbè. Beh, a parte mi puoi anche invitare direttamente alla missione se te la dare, se fa prima. Sì, aspetta un secondo. No, devo entrare, devo caricare, fa due polle. Sì, vabbè, però, fino a ieri Diopono non ci dava questo problema del cazzo, però. Vabbè, chi se ne frega, se te ne da altre, oppure fai altre missioni, mi inviti di rete e via. Sì, vabbè, io comunque, da un fettacolo. Sì, ma vi civovo tre ore solo per caricare, c'hanno server della TopoCiccio. Eh, ho la TopoCiccio Web. Sì, vabbè, appena gli spiegherò che nonostante questo non vi dà un soldo. Ah, bene. Sai cosa gli ha mandato, o mi ha mandato, sì, mi ha mandato il messaggio? Mmh. Ma scritto, molto bene, ringrazierò la Marra per averci fatto conoscere. Appena gli spiegherò che nonostante questo non vi dà un soldo. Ah, ah. Sembra giusto, no? Sì, ma se lo chiamo io, magari? Aspetta un secondo che sto chiamando Ron. E' il tuo amico Ron. Vediamo. Mmh, mi ha detto no problem. Vediamo, eh, che cazzo di missioni da Ron. Urto lungo la costa. Mmh, interessante. Anche questo sembra molto interessante qua. Buon avvio, lo metto sempre difficile. Confermo appostazioni. Un corso. Ti è arrivato l'invito? Oh no, no. Eh dai, eh. Non pensa anche sta rosso. Eh dai. Mi sa che ti rompe i coglioni il fatto del coso. No, te li rompe. Ti provo a inviarli. Io sto gioco, ma... Inviti gli amici, non è che devono essere per forza nella solita partita? Teoricamente no, però... Non ti arriva. Non avrò a mandargli 500, non guidi. All'ultima attività, scusa, eh. Alla vista, l'ultima attività... Tacchete, vediamo se... Così. Ti è arrivato? No. Eh va, cattoda. Accetta per favore l'ingresso alla partita. Che palle! Eh lo so, eh... Capiamo, perché si perde mezz'ora. Eh, capisco, però... Viaggia i giaggi del cazzo. Non fare inviare il coso... E... E ora sta entrando. Maledetti server di merda. Quindi bisogna essere comunque... Almeno per questo tipo di missione, a regola bisogna stare nello stesso a partita. Questa è già fatta. Questa? Sì. Sicuro? Sì. E parecchie volte, mi sa. Sì, cì. No. Mmm... Le missioni di Ron? Eh, si è fatta. Eh, non me la ricordo, frate. No, no, si è fatta. Non me la costa. No, no, si è fatta, 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 si è fatta. Perché solo dietro un cespuglio? No, ma poi è più chiaro perché la macchina ha 700.000, cioè... 700.000 km. Ah, sì, la è quella lì, giù del pifero. Ah, ok, allora, se chiama la macchina io vado a ammazzare i pipi con il cecchino, vai. E' quello lì che fa, i cecchinaggi. Do you, uh, need me to bring you a ride? I'll bring it by. Aaaaaaahhh! Oh, che palla. Oh, che palla, che palla. Oh, che palla, che palla, che palla. Oh, che palla, che palla. Non era morto. Eh, ma è ovvio, sti paletti è un... Oddio, stasciola. Oh, che palla, che palla. Oh, che palla, che palla. Bene, non c'è più nessuno. Ah no, c'è questo. Questo lì sarà nascosto. Aspetta, lo vedo. Ops, ruttino. Guarda, guardami, attentamente, da dove arrivo. Ah, ora si rompa, no? Oh, guarda. No, non l'ha fatto. Prima te, buonino. Era la scout di sotto. Troppo appeso morto. Che tu fai? Accolgo sordi. Mamma mia, tu sei proprio una cattone. Io no. Io non sto facendo ciò. No. No, no. Io raccolgo le munizioni. Andiamo, andiamo. Eh, aspetta, prendo il camion. Guarda che questi proprio... Cioè, c'hanno dei macchinoni, roba da panico. E poi c'avevano neanche 50 dollari in barri. Cioè, nel portafoglio. Sì, anche... Se mi spingi da dietro, comunque, si fa prima, eh. Sì, ma ti va bene, ma una siga, eh. Lo so. No, no. Vai, ora si guida di... Vai, boh, beee. Cosa, scusa! Non volevo. L'ho visto. Aspetta, 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 faccio il freno a mano. Sì, questo coso. Infatti, non funziona. Sì, sì, venire contro un blindato è comodo. È utile. Sì, ragazzi. Sì. Io faccio, ovviamente, un po'... Di ginkà, né? Bene. Ho messo la venticinquesima marcia. PORCO! CANE! CANE! PORCO! Wow, wow! Aspetta, devo farla un... Sì, ecco... Sì, ecco. Sì, ecco. Sì, ecco. Che ti sei rimesso questa hit? Non l'ho mai cambiata. Ah no? Non l'ha messo l'altra. Perché è la prima volta, poi è durata tre minuti. Sì, ecco. Ora, mi devi spiegare. Che cazzo suoni, imbecile. Ora, ma te, dimmi te che cazzo voleste? MA VAI! Ma schiaccialo! Vai! Vai! È sceso dal tir per fare cosa? Per darti mano. No, no. Invece, siccome non ti riesci, eh? No, no. Ti vedevi in difficoltà nella manovra. Sembri uno dei due furgoncini del gelato che si vedono nei film americani. Ma per chi? Fa questa sonina... Fa questa sonina... Fa questo sonino... E' diventa al gelato... AhJO NOUP So Troppo ho ammazzato un motociclista no ho messo la freccia metti la prima voglio vedere la visualità all'interno di questo bolide ecco lampione risa ora arriviamo insieme e non vediamo se ci do oh però 12.800 è fra credo è dura mezz'ora no ci dovrebbe far fissa che l'altra che ci dava 19.000 dura 3 secondi aspetta però non mi ricorda lei è morta dall'alto no no c'ha dato che cazè ah no si può fare solo quell'altra giù in fondo no allora vai esci aggiorna eh no io sono uscito devo andare un attimo in bagno che se no muoio arrivo subito poi qui il telefono assieme uno telefono i te e vediamo se ci do direttamente le attività mamma un modo aspetta un secondo ok a a a a Grazie a tutti 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 Lo sport preferito Il nuovo sport nazionale Oh amico E' una carroia Non ho detto che cazzo c'era scritto C'è comunque mi sa recuperare le auto Le auto Mi sa che c'è da dividersi Albero Mi sa Allora io vado a quella più a sud A sud Che mi fa lì? Ho ma World of Warcraft Che mi fa lì? Ho ma World of Warcraft rispetto alla mappa Allora al nord e al nord e al nord e al sud Dio madonna Il paletto è un po' mappa Certo Il paletto era per me Come là secondo è quello Come quello in moto è tutto Come quello in moto era per me Come quello in moto era per me Stiamo andando a tutti e due alla solita? No Porca puttana al tir Ma guarda questo finocchio lo ho avuto in culo Sì, non mi riesce a raggiungerlo Cazzo c'ha un Lamborghini madonna Sì, l'ho già fatto Sennò guardare la mappa è un macedo Io posso consegnare questa e poi ti raggiungo Madonna, non c'è mira oggi No, piccolo, ho perso Quando si deve consegnare? Ah, il concessionario ha semina di sbirri Che palle Che coglioni Già c'ho la macchina più veloce del mondo Per seminarli sarà... Eh dai ma puttana maia la roia Eh che cazzo di coglioni però Eh vacca E c'è la macchina vieni Vieni ciccio guarda come si fa Vieni Oh e dai eh Ma guarda se maremma puttana Eh vacca puttana troia E la porto proprio nuova nuova io a Simeone Quattro 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 Che cosa c'è? avevi da rubare? una corvette che si chiama coquette coquette guarda sto arrivando anch'io aspetta aspetta fermo fermo ti voglio far vedere come si fa ad andare in macchina su cerchi 12.000 anche questa buono bravo bravo simeon dà ce n'è altre così poi siamo a posto proviamo a vedere se ce n'è altre sempre in linea di queste sono carine però anche renumerative direi quale vuoi fare? oggi si rubano auto? poi non si poteva fare anche il rock pedicler proviamo anche dopo a uscire un attimino e avviarla anche a te vediamo un attimo se che man mano che si fanno queste missioni ce ne da sempre di più no? si si no queste sono simpatie sono fast non ci si rompe tanto neanche i cosiddetti questa è una di lei però invece ci si rompe il cazzo e se non mi ricordo male sono 4 auto da portavia queste e ovviamente la nostra macchina ovviamente la nostra macchina si ovviamente la nostra macchina sono in culonia almeno la parcheggiai per bene te vai subito a questa qui vicino alla villa e io vado a quell'altra qui se sono bersagli che non sono in movimento quello non è non lo vesti mi sa che quelli dopo si però no stai massacrando la tastiera fast l'entrata di sta villa di me mentre a piedi Grazie a tutti. 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 Non ci si fa, eh? Oh, Jesus Santo. Grazie a tutti. 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 Vai a tutti. a tutti. grazie a tutti. ma non è perchè fa conto una ce l'hai già in una scelta attività è la lista degli attività guarda se tu hai per favore no non ce l'ho ok ok ora potrei farlo io no non ha altre cose sforzatamente il piano è abbastanza tranquillo ok quindi ron ha svegli visto che si può fare chiamo l'estero ma si dovrebbe fare il colpo alla fleca però eh ti va fra? fra ciao così perlomeno si fa un po di di hash ah già devo tornare a casa però a parte si dovrebbe continuare anche i due colpi al volante e anche vabbè ormai resto lì facciamolo poi se fai tu vai ok 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 Allora però a me quello che mi fa incazzare è che tutte le volte che provo a avviare questo volpo mi trovo selezionando questa attività perderai i tuoi progressi per tutto in ordine e sfida definitiva. Non lo so, sinceramente non lo so. Cioè io calcando direttamente questa cosa qui non è che pronto mi sto giocando la possibilità di andare avanti con i colpi. Non penso. Perché stai sempre interessati da capire? Ho cambiato di qui. Vediamo di rifarlo come l'ultima volta. Anche a me me lo dice comunque. Ah sì? Eppure non mi sa difficile però. Andiamo invece di spippolare sto cazzo di telefono. Risponde a cetofono. Sì c'è Alessio. Che si fa come l'ultima volta? Io guido e ti fai snake. Ragazzo. Ah ok quindi io faccio snake e ti guidi bene. No no te guidi e fai snake. Fai tutti e due. Eh ma a cazzo di telefono come è possibile. Madonna estra. Mi raccomando. Mi raccomando PGAE poi è dopo. Sì. Di morto. I tuoi progressi e una sfida tutta in ordine sono state azzerate. I tuoi progressi e una sfida in definitiva sono state azzerate. Ti prassi e sale in macchina. Che va? Oh stanko. Hm? Ah. Dove devi fare te snake? Eh? Dove devi fare te snake? Eh dai questa macchina va a lo stesso in discesa. Eh? Eh dai. Non mi fa uscita la macchina. Bene vai avanti. Ah va. Caputana. Ah va. Non mi fai la macchina, però. Non non mi fai la macchina. Eh? Si la viste cana ma. E questo stec. Non controllo questa macchina roba da panno. Beh oh brah. Mmh. Non controllo questa macchina roba da panno. Oh brah. Oh brah. Oh brah. Eh? Grazie a tutti. Ah, non c'è un tasso per montare queste imbiscine. Ah, se c'è una missione, ho bisogno di aiutare, ho una macchinina come questa, la Arbonise. Tipo, non farebbe. Ah, se c'è un tasso per montare, ho bisogno di aiutare. Ah, c'è un tasso per montare, con buon accesso, che funziona per te, puoi uscire velocemente, ma funziona anche per i coppi. Spendere il tempo di rispondimento. Ok? Ok. Ok, enough of this peeper crap. Let's go to the garment factory. Now, when you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, the passenger seat, I've sent it to our close. In your first run run, keep your hands steady, and maybe the wet run won't be a disaster. Se non tutti gli hacker del mondo, sarebbero tutti i giocatori di Snake. Sarebbe tutti ricchi. Eh, beh. Oh, crippled or killed? I'll take bets. I'm calling Paige, she's my assistant. First she's gonna get us what we need, then she's gonna sell me in half. Ha, 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 ha... No? You don't like that one? No, she's gonna get us. Paige, it's Lester. The place looked good. Nothing we weren't expecting. Can you get the intel together? Card copies to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about. I'll be over to collect it with, uh, those people. Yeah. Mm, charming as ever. Ok, ci vediamo presto. Ha già finito di Jasmine, un po. Non ci vediamo, non ci vediamo, non ci vediamo. Che cosa è questa? Si, un freno a mano con questa, è fantastico. Non ci vediamo, ci vediamo il mio caro qui, prendiamo il truppo. No! Dai Fester di merda! Arrota la signora! Mh! Fester, se scuri, ci mi toccare una finestra! Ah, ma sentire anche semplena. Eh si, la dovevo aprire perchè non ci sei stava. Ma che ti levai a casa? Balla, è... e accedera... Che stai scemo no? ho visto via la buccia cappi cos'è? è molto buon Non significa nulla di questo, è solo un po' brutta Se erano offensi, non avessi Che è successo? Per cosa? Dolla, per ammazzare la propensione? Cioè, hai rotato il tizio E ce l'ha data fallita? La prima volta Non devi ammazzare Non devi ammazzare i motociclisti No, non ti direi che bisogna rifare da zero Eh, vacca maia la puttana, troia Fester di merda Ma ce la poteva dare direttamente dalla fabbrica di Leicester Guidate, vai E questo dove va? Nel portabagagli? No, non so No, non so Eh, scusa Eh beh Non so se è stata una bella idea, a farti guida Perché? Perché? Boh Scusa Scusa Eh, io non lo so Nello quindi Oh io Guarda, quello si aveva plutôt Eh, eu mi sta a morire l'idea ma che cazzo fa quello testa di minchia ora 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 mi dai Ehi, spiega! C'è... Cioè io... Ma no... Ma no... C'è qui due brini... Già va! Veramente è tantissimo questa macchina! L'ha pigliato tutti! Vuole la macchina più performante! Quattro! Cioè io! Cioè io! È una piccola! Oh! Mya, male! I-i-i... Di tutto il mio maiteria Cioè io! I boxers are in the back, behind the safe door. We want box number 167. It's right on the highway, with good access. That works for you. You can get out quick, but... I don't know if you could use one of our cars, no? It's just a mess. Scusi? Rizzo? No. Strange. Hey, ha anche questo troiaio di volume super. No, no. Give me my phone. Oops. Disaster. It's part of the shuttles in the screw room. Hau. Mh! mieć napot cologne hai preso lui a testa di minchia con questa macchina di merda Che cazzo vorresti? Alla falli averidio smetto di giocare LOL Finita Edge e i nozi Snake Lester, eh, se tu continui a sclergiare Ok, ci vediamo presto It's loading hardware in the back of the truck Tools to do, a job, things for you to wear On a job, your attire will depend On the role you perform As the job gets more complicated So the uniform If you like a machine by studying You should be provided with a couple of masks Then when you go into the bank You can choose one that goes with your eyes And hey, here's the added bonus Of none of your favorite copics That leads to a major crime ... ... ... ... Oh, come si. Perfetto, non c'è la cosa? Scusi... Enforzati. Scusi. Ora vivo. Buon aver givenvi. Ciao! Madonna, è un super giac African. Madonna, lo amato! Fai stile! Hai appena sganciato! Ha appena entrato! Nereli kill me! Ehi! Ehi! Juste! come ti senti? no 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 c'è garba giallo albero macchina russa c'è dici il mio dio della fallita te la fa da solo lol nooo stavo scherzando dai ora guido per benino cazzo voi cazzo sony cazzo 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 No What's up? You're not going to die You're not going to die No, you're not going to die We're going to die Oh my God Guys Non puoi prendere una banca in una macchina. Si. Ma tu c'hai il increased lì? no 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 okay i'll look after this unless they'll come by your place when you're ready to go you 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 Grazie a tutti. 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 Vai. Ok. Vai via. Vai. 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 guarda oh e dai merda oi ci sei? eh sì mi sei rovisciato il tè porca vacca stanna ok ok stanna 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 Non è morto, non è morto. Sì Di sono massare di macchina e ora sono macchina Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Perché è stato gratuito? Ti ricordi o no? Si Ma è una f*****a Il nostro corso gratuito è stato gratuito Sì, è passato. E se la cosa che ho parlato arriva, vi ringrazio. Inoltre, se qualcuno arriva a me, io mi chiede a te fare un paio relativo. Ehi! Per la prima volta, questo non è vero. Ma non si tratta. Sì, poi c'è anche danno al veicolo, sai? Ho però nessun morto, a parte qualche, vabbè, a parte i piloti e quello che l'hai spiaccicato e spiaccicato. Ah, ma quello non conta. Meno male. Vabbè, 70 mila in più. Se lo ridici un'altra volta, mi incazzo. Fatta bellino quello delle recine, però fatta il culo. Madonna, un'altra volta, non sei fissato quella lì, che culo. Perché te no, eh? Ah, finocchio di me. Ah, mazzo. Ah, non lo so, ma... 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 ha dedicato lo sportello della macchina. Ah, guarda che geni. Mi scusi, non l'avevo vista. Panco. Non l'ho vistuta. Decollo! E' fortuna che non si può andare a sbattere contro il bandone facendo 50 miliardi di danni. Vai, invitami quando tu ci sei. Sì. Cosa si fa? Quell'altra? Sì. Ah, quelle devo fare io? Sì. A meno che Ziofester non mi voglia chiamare e darmi a me quella... la terza. che non è che sarebbe malvagio. No? No, sarebbe male. Ma piccata che così perlomeno si va... avanti. Sì. Ah, che stessa sta cosa che si può cambiare. Ma no. Sì, Lester di merda, però me potessi... Secondo me quelle due cazzo di sfide di merda che, ci sa, sbloccano poi... O bisogna fare ancora missioni con la marra? Che cazzo ne so io? Oddio, sono fatte appena la morte. Va facile, eh? No, che facile. Capita la gente demente, però... Ah, ok, vai. Vediamo, eh. Io accetto da casa mia. Vediamo se poi mi ributta a casa oppure... Oppure no. Oh, eh, selezionando questa attività per te hai il tuo progresso... Sì, sì, eh... Eh, vaffanculo, sì, perché... Per cazzo l'ordine ancora, comunque... Ah, anche poi vi chiaro perché io una missione tutto in ordine non ce l'ho, quindi... Mmm, non so. Finanziamento cocaina. Ah, fantastica, è quella da pigliare e assaltare oraicoso. Lo yacht. Ci sarà già provato a farla, vero, Cap? Mmm, mmm. Certo, e nel mentre uno potrebbe aspettare la funzione del cellulare per andare su internet sarebbe stata... Togo, almeno uno non guardava di ordinarsi una macchina, che so. No. Devo ordinare le mignotte a casa sua. Ehm. Hai sentito qualcosa? Mhm, significa sì o no? No. Eh, questa è un po' una menacca di valle, sì. Hitman l'ho preso, eh. Io compriam. Ah, già compravam? Sì. Andavamo provo e forza. Ehm. Ehm. Questa volta facciamo quelle normali fra qui e... Cioè... Aspetta. Vediamo se... Si entra anche Elec. Non lo resta preoccupato. Ah sì? Sì. Un po' strano perché teoricamente anche questa dovrebbe essere abbastanza renumerativa. Poi si sblocca a rango 12 ma... Oh! Uno è entrato. Sì, a rango 12 c'è, io boh... Sì, a rango 12 siamo a 58 e ancora volto. Io sono bloccato ancora subito dopo evasione. Sì, ma fatti ma, capisco come vengono calcolate. Ah, non lo so. Io stavo pensando addirittura di ripetere il colpo di evasione. Solo è duale, cioè l'ultima missione, mamma mia. No. Che senso. E il discorso di rifare evasione, perché ho visto un po' su anche il forum di GTA, che c'è qualche d'uno che si ritrovava nella mia stessa situazione, che una volta finita evasione non gli faceva continuare. E c'è chi ha risolto rifacendo e ripetendo la missione. Solo che... Madonna. Come ti ripeto, l'evasione finale, quindi la missione finale, non tanto quelle di mezzo, ma l'ultima è un ruttorio di cazzo. E' che secondo me la gente che... che non ha bisogno di soldi non gli ne frega un cavolo di fare le missioni. Già che l'hanno finito in parecchi di già tutto. E' un gioco alla fine di un anno eh questo. Si va bene, però scusa eh. Anche fatto appunto che si va bene shitti, ma che cazzo fai scusa? Eh vanno... vanno... no... La gente no. Vanno un freemode. Vanno un freemode e cosa? Che ammazza la gente? Che lo senti? Ufff. Ufff. C'è solo no? Madonna, guarda. Che buono. Un attuccio. Speriamo che questa sia un po' meglio. 31. Sì, effettivamente è al 31. Però speriamo che sia uno di quelli che ha un altro personaggio. No. Ah, dai, finito. Speriamo... Speriamo... Oh vai. Ah, l'hai ripetuto così. Che nome so che si... Scusa eh, a noi Lord Titan, non ce lo faceva scrivere, questo è di una gilda che si chiama Lord. Forse perché c'era già. Questo è 16, gioca direttamente con il gamepad. Il joystick. Il joystick. Noi siamo della barca. Perfetto. Che cazzo vuole quello lì con la... Perchè qui scusa questo qui? Ti ha buttato i... Non me lo chiedi. Questo è scemo eh. Non lo puoi buttare di là? Eh, io non so come. Questo lo seleziona giocatore e lo ributi di là. Come? Aspetta. Stavo lasso. Ah, ok. Ah, lo stavo scrivendo. Come back... Guarda. Vai. Chi è che manca? Oddio, questa figlia. Sì, dai, ven via. Poi fa creare il cazzo. Come minimo guidate la 500, dai. Giusto, fra? Stai a vedere. Ora c'hanno la T20 tutta bomba. Vieni con me? Cazzo là qui. Cazzo come la bigli, coglione. Vai, vai. Vai, prima, vai. Ok. Mettimi la destinazione. C'ha la mappa di merda. Eh. No. Nonno. Rizzona? Cazzo. Cazzo, cazzo. 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 no 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 E' una panchina eh? Hai vomitato? No, ho schizzato di sangue Metti la maschera E' una panchina 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 Cazzo Porco dio E' una panchina E' una panchina E' una panchina E' una panchina Cazzo Sì, quello con l'elicottero dove cazzo è? Io non so Teoricamente quello con l'elicottero dovrebbe far fuori gli elicotteri in teoria se no era meglio mettersi come i leicotteri scusa ma perchè mi mette sempre la pistola mitraglia lice di merda dammi la carabina scusa ma la barca va indietro da sola si è il nuovo modello neanche la devo svingere scusa ma scusa ma scusa ma che cazzo questo non muore eccoci siamo nella merda fra perchè perchè sono sott'acqua eh shift e il mouse tu me l'ha insegnato e tu non mi riesci a salire sulla cosa ecco che idiosi cioè io aspetta ci sono un altro quale non so io quello e chi è sono tutte e due atterrate ho l'elicottero schiantandosi sulla nave e non ci sono nemmeno più vite appena si si muore siamo finiti bravi bravi non piglio nemmeno la cocaina cioè ma dai ragazzi sono proprio non piglio nemmeno non piglio nemmeno aspetta la la trafficking la la c'erga non è il 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 Oh fermo un attimo fra perchè consenza inventario snack cazzo ce n'avevo solo uno merda non è qui la questi due cocaina non so qua posso sotto o sono ancora più sotto no no so su ah su anche merda 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 5 3 Ecco, guarda da quanti players sono, 4, ti trovi 4 amici, perché sennò se ne va a merda. Sì, sotto questo punto di vista sì, perché è allucinante, infatti, a punta di questi pesi. Io pensavo tu avessi buttato le molufo, guarda. Sì, quello sì. La volevo buttare io, la volevo buttare. Sì, non è solo provare. Sì, non è solo provare. Sì, non è solo provare. Sì, questo è bene, tu è inboundo. Ho bisogno di coordinare il tuo attacco da lì e da lì, ok? E quando sei all'interno, scuola il boat e prendi tutti i packaggi da lì e da lì e da lì. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Sì Sì Andiamo più aggressivi Vieni Che di fuori? Stai a me mi ha fatto paura Che di fuori? Poi il panetto di coca Uno Peso Che ragazze è questa che sta sparando fortissimo Ma perchè? Che sei andato nella doccia Sì però se non coprono sti deficienti celebri Sì Vai 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 Vediamo se qui c'è la guardia No Grazie per avermi fregato la cura Scusa Ehhh Ecco il panetto di coca Uno Questa è qui invece di essere nel ricottero Vieni di qua dove sono io fra C'è una Un'altra di cura Qui 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 dentro Qui dentro qui dentro Nel cesso Questa è la Questa è la È una sempre riuscirei guarda quanto non uso le france da sprecare munizioni e basta io esco perchè devi spaccare l'elecottero tutte le orte scusa eh non so io no fra non c'è la possibilità di mettere che siamo noi a mi sa che l'elicottero a questo punto non serve un cazzo però già nel senso questa missione che serve secondo me che due a terra e due nelicottero dice quindi si e proteggeci direttamente dagli elicotteri si ma quelli non ci hanno protetto manco per niente lol aspetta ti invito io insieme uno mi ha mandato un'altra missione tutto quello che conta per loro sono alto e veloci e belle scarpe ma non verranno duro per niente occupa di vestire ogro una baller grigia modificata in una zona povera proprio un grande stile prenderla e riportarla via non cambia non cambia non possiamo accetti appena accetti si va a fare questa cosa sembra interessante così casomai si capisce qual è anche la baller è giusto interessante eh vacca puttana mignotta c'è tutte le volte da fare la marathona è possibile si 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 Devo dire che se ce le chiedeva a porta ce l'ha intatta più possibile, se ne ha già fallita. Sì, ovvio. È proprio linda. Quasi gli airbag. Eh, lo so, lo so. Grazie, grazie. Sì, qualche ritocchetto. Scusa, ma la missione era andata a me e si rivolge a te. Qualche ritocchetto, ma... Va tutto ok, che non è. Scusa, mi fa una vera, è una cosa. Non ti cagano, in questo gioco non ti cagano, lo vado a più o no? Sì, io mea. Mi metto gli occhi a un po' seduto pure io. Quello con la cosa... Ti stai sui cazzo, non ti dice non mi chiamà più. Eh, più o meno. Per questo accetti la missione te e parla a me. Eh, beh. Non c'è male, via. Questa è solo l'intermediario. Furto di prototipi? No, un fiume di droga, vai. Estrazione sarebbe da fare. Vediamo che la sceglie. Vediamo che la figlia. Estrazione perché tanto il gioco decide cosa faccio io, quindi. Eh, ecco, puttana maia la mattina. Estrazione? Puttana maia. Estrazione? Estrazione? Estrazione! Beh, dimmi te come ha sceglie. Aspetta, aspetta. Cosa? No vai. No, eh, boh. Aspetta, vediamo se c'è. No, non c'è, andavo via. Ok, quindi... Vai tranquillo, vai tranquillo. Che cosa c'era da fare da fottere un coso? Cazzo, uno di sei pure. No, prova a invitare delle persone. Eh, già cliccavo, cioè... Visto che a noi ci piacciono le cose facili, l'ho messo sul difficile. Comunque anche queste missioni si potrebbe vedere di invitare la gente o si a casa. Magari si trova gente come ele, si aggiunge, si aggiunge come le, coglio, coglio, tu, come amico. Ok, dove vai? Poi mi dice andà qua. Sì, no, ma c'è da fare un'irruzione. Eh, si passa da di là dove si fa il salto. Da, vicino l'autostrada. Te lo ricordi? No, è qua, all'è. E che? È qua. Ma non da dove si fanno i salto. È qua, è uguale. Io lo fò di qua, sono più vicino. Cazzo, me ne frega andò nell'autostrada. Eh, vabbè, ormai io ci sono andavo lì. Spero solo non ci siano i carri armati, perché se no... Probabile. C'è soltanto da portare via un caccio, giusto? No, me ormai io, ma penso di sì. Non vuoi passare dalla solita cosa? Sto andando di giro, mi sto fiondando dentro io. Facciamo il duello. Non si può fare. No, davvero. Sì, però, se mettevano che i cancioli potevano essere abbattuti, avrebbe stato figo. No? Io spero solo che non ci siano i carri armati, guarda. Perché è da uno a sei, cazzo. Che i carri armati evitali di mettere, se mi sento. No, davvero. Vai. E ci riesci? Bene. Addirittura elimina l'informatore ora. Figlio, è un caccio veloce. Entendo. Non ci attaccano meglio, dai. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ma siamo nella solita missione? Sì, sì. No, perché... non capivo... Sperai eliminarlo con la man... con... ...sto coso che sarà un po' pure, ma sai? Sperai... 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 Fanculo sono morti... Non è che mi sono suicidato, ma ammazzare questo picchè macchina, porca puttana... Un po' un problema... Eccoci... L'avevo pure ammazzato... Porca puttana... No... 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 Il cavo... C'è... ... ancora c'è la macchina... Eee... Dai... Fulla del cazzo... E va... Capitana... Mignoda... Parti macchina di cazzo... Eee... E' meglio se qualcuno andava lì a il coso... eh si vabbè con miseria specializzai eh mori questo magari è fattibile se uno rimane in macchina con la blindata sai qui ci sta no un cadavere non mi può rompere i coglioni non sto guardando mezzo lo spirro è molto eh vaffan oh grazie ma che lo sforzello non è la huruma eh lo so Quando dà? Cazzo sono anche nella merda, con... Ah, meno male, devo uscire dapposso. Quei cazzo è sto cuore a cuore di merda. E dai, troppo... Eh, a tutta il cappetto. Ma un culo. Eh, sei tu mamma. Ah, eh, vacca. Questa macchina non ha freni. Te la farò mamma a salire questo vipigliare alla pallicetta. Che cazzo? Perché? Vaffanculo! Non la fare mai più questa ora. Sì, comunque è bello come si è spiattellato sul cofano del poliziotto. Oh... 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 Cazzati. Cazzati? Ma... Oh cazzati, non so come si dice. Vabbè. Sempre difficile. E fa comunque sa che l'ultima è proprio al min. Che costa un colci. Buono. Quindi questa è l'ultima? Sì. Buono. Io comunque ci provo a fare la cosa, eh. Un nuovo personaggio? La faccio mai alla proprio... Fino al medio, l'osso. Puoi provare a vedere se mi fa fare colpi. Perché se quella va avanti e questo no, mi incazza maniera. Sì, ma non so togli il tutorial. No, vabbè. Ma anche senza tutorial, comunque... Non avevi detto che non lo volevi fare più le missioni della cosa. E allora la prendite e la consegni che scommetti e ti dice... Vai a cagare, vaffanculo. E dice tutti i colori. Scusi, non volevo. Sì, la coca. E ho preso anche gli snackettini. Ma perché? Il dosso l'ho preso solo io. Oh, no, no, no. Ah, è morti, vittato. Oh, no, no. ah la freccia, finocchio è fedoso di merda questi hanno preso direttamente la patente con i punti alla pinco ora dirà ottimo, ottimo, ottimo ah oh, vedi, va bene, ha visto? meno male, vedi te è simpatico dai io inizio a stare simpatico speriamo che ci dia 20 mila, così perlomeno ci sarà un po' coglione 5 mila, ma ti sei sprecato però quindi, fine? chiude qui per stasera e si continuerà domani ma è vero